Le successive tappe sono solo una monotona marcia di avvicinamento all'epilogo fissato a Bolzano, penultimo appuntamento con la Rocca Pietro e Dobbiato. In fuga in 5, Mers, Van den Bosch, Polidori, Gimondi e Bitosse. C'è ancora in ballo la classifica punti, in Lizza, Bitossi e Dancelli. La volata di Dobbiato, la spunta, Bitossi su Polidori, Van den Bosch, Mers e Gimondi. A 1,36 l'altra è Dancelli, Bitossi con il successo di oggi toglie la leadership della classifica punti a Dancelli.